ciao eccoci qua ancora con voi allora adesso io qui ho delle patate che ho dato una prolessata poi del pangrattato con po di rosmarino tritato dentro qui c'è del rosmarino sempre tritato pepe aglio olio e sale adesso io le condisco ecco qui vediamo un po come condisce intanto un po di sale abbond un pochettino d'aglio un po di pepe ecco qui poco poco ecco qua a posto poi che cos'è ma oricano che è rosmarino tritato rosmarino tritato ecco qui poi questo è il pangrattato dorato queste sono buone eh poi le patate a chi è che mi piacciono ma lo dovete proprio dire ecco penso a tutti eh le patate si ecco fatto poi che ci mettiamo allora l'olio un po di olio e poi ora andiamo in forno subito subito ecco qua voilà ti sta bene il blu eh ma sono fai tutte corone c'hai oggi fammelo vedere qua è domenica guarda un po eh voilà faccio vedere queste patatine allora queste sono le patatine non mi affornava queste sono che belle patate sono spettacolo guarda ferma mamma che facciamo guardate 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 che spettacolo io già mi immagino che so eccole qua col pangrattato vedete eccole guardate come vengono ecco uno spettacolo ecco qua e buon appetito a tutti allora buon appetito a tutti un bacione grande grande dalla vostra reginella ciao a tutti ciao